ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi un altro piccolo saldatore per stagno che si alimenta tramite la presa usb di tipo c cosa hanno di particolare questi saldatori oltre a essere piccoli pratici veloci da utilizzare sono appunto veloci anche nel riscaldarsi e ci danno la possibilità di utilizzarli ovunque perché alimentandoli anche con la presa usb per esempio dell'automobile oppure utilizzandoli con un power bank all'esterno di un laboratorio possiamo usarle in tutte quelle situazioni dove in realtà con gli altri saldatori non si può lavorare questo è pts 200 v2 vediamo come funziona valutiamolo insieme ma voi volete sapere sicuramente il prezzo circa 40 euro poi dipende pure da quale accessori comprerete insieme al saldatore tanti altri fattori punti intercambiabili facilmente reperibili su web vi lascerò tutti i link sia per comprare questo dispositivo per comprare le varie punte anche l'alimentatore eccetera quindi iniziamo e allora vediamo quindi quello che troviamo all'interno della confezione questo capo usb di tipo c da entrambi i lati molto morbido flessibilissimo piacevolissimo da utilizzare e questo è comodo durante le saldature perché non va ostacolarci durante il lavoro il punto di precisione perché un cavo rigido ci ostacola questo così morbido invece ci fa lavorare molto molto meglio il saldatore con i suoi accessori quindi troviamo questa copertura per la parte frontale e questi rivestimenti in silicone questa è l'immagine che troviamo sulla parte alta della scatola quindi la raffigurazione del prodotto il nome quindi pts 200 v2 in realtà però qua non è riportato ed è compatibile con le punte dei saldatori t 12 t 600 t s 101 che trovate facilmente anche online allora guardiamo quindi il nostro saldatore quando arriva ovviamente è smontato quindi tutto all'interno della scatolina troviamo il puntale posizionato da questa parte vari accessori insomma disposti in queste parti sia tomate per poterlo utilizzare come avete visto la punta va messa nella parte frontale possiamo scegliere se utilizzare questo puntale più lungo che ci dà la possibilità di avere una copertura una protezione maggiore quindi saldare in questo modo anche se provandolo mi sono reso conto che effettivamente il calore si percepisce a meno che non si utilizzi comunque la copertura in silicone che attutisce un poco però da questa parte il puntale si riscalda praticamente tutto quindi conviene sempre pugnarlo dalla parte posteriore ma comunque è sempre una protezione in più nella parte centrale abbiamo il display i tasti per poterlo comandare accendere dare le varie impostazioni e qua l'ingresso per poterlo alimentare vi faccio vedere quindi i tipi di alimentazione possiamo alimentarlo con dei caricabatterie classici per il cellulare oppure un power bank ma in questo caso oltre ricevere questo cavetto morbido troviamo anche questo adattatore che come vedete passa da un jack normale a un connettore usb di tipo c quindi proviamo ad alimentarlo direttamente con la 12 volt vediamo quanto sia rapido nell'accendersi e contemporaneamente vi faccio vedere pure il menu e qualche impostazione non tantissimo più che altro per non fare durare il video un'eternità allora inseriamo quindi il nostro cavo si accende e se noi proviamo ad alimentarlo in questo caso da errore voi vedete adesso il display che lampeggia solo una questione di frequenza in realtà il display è nitido non sta lampeggiando assolutamente i numeri sono netti e immobili quindi abbiamo la temperatura attuale il tipo di alimentazione 12,6 la temperatura impostata appunto il messaggio di errore però se io inserisco la punta il messaggio di errore svanisce mi dice di selezionare il tipo di puntale in questo caso chi 12 diamo ok e abbiamo la temperatura che è già impostata 140 gradi salirà rapidamente fino a quella temperatura però il massimo abbiamo detto che 450 come vedete qua abbiamo la scritta work che sta a indicare che il nostro saldatore sta lavorando per mantenere questa temperatura proviamo quindi ad aumentarla premiamo su più come vedete da questa parte abbiamo la temperatura impostata da quest'altra parte invece abbiamo la temperatura che va salendo già siamo praticamente a 270 quasi 300 gradi quindi molto rapidamente raggiunge la temperatura massima adesso voglio farvi vedere pure con una termocamera come la temperatura effettivamente da questa parte si percepisca non ci si scotta però insomma non è proprio sicuramente una parte fredda del di tutto il saldatore ma approfittando del fatto della termocamera si sta avviando vi faccio vedere come si riscalda lo stagno quindi come si scioglie con facilità basta toccarlo ragazzi guardate quanto sia rapido si scioglie in un attimo un saldatore effettivamente che raggiunge una temperatura elevata e quindi ci permette di saldare sciogliere lo stagno in un istante proviamo adesso con la termocamera che nel frattempo si è avviata e da questa parte è molto più caldo rispetto alla parte posteriore abbiamo 80 gradi da questa parte quindi sicuramente non è sì non è molto pratico da toccare così però sicuramente non è la stessa cosa di toccare eventualmente alla punta che raggiunge a 450 gradi quindi si può utilizzare senza alcun problema in questo modo si può anche impugnare in quest'altro modo però si deve evitare di mettere le mani esattamente da questa parte e qua abbiamo anche questo silicone che non si scioglie non si danneggia con l'alta temperatura diamo un'occhiata quindi almeno abbassiamo per ora temperatura perché non serve e come vedete in questo caso la scritta work cambia passa a old perché non è necessario lavorare tornerà di nuovo su work quando sarà necessario per appunto rimpostarla come abbiamo scelto noi quindi accediamo al menu premendo il tastino centrale si apre quindi questa serie di comandi che voi continuate a vedere purtroppo così lampeggiante non so come fare per evitare questo problema comunque abbiamo la possibilità di scegliere il tipo di tip quindi la punta che abbiamo inserito possiamo impostare alcuni parametri per quanto riguarda la temperatura e lo stesso per quanto riguarda il timer questo invece lo schermo principale possiamo decidere se avere i numeri più grandi oppure più piccoli e tramite il tastino più e meno scorreremo attraverso le voci quindi mettiamo big number andiamo di nuovo in passo e andiamo sul return in questo caso guardate quanto si sono ingranditi i numeri ma noi vogliamo i numeri normali quindi torniamo di nuovo verso giù e abbiamo anche la possibilità di scegliere il settaggio per quanto riguarda i volt quindi 15 volt oppure 20 volt lasciamo 20 volt se eliminare il suono insomma alcune informazioni alcune impostazioni per quanto riguarda il nostro dispositivo possiamo anche aggiornare firmware oppure riconfigurarlo come era quando lo abbiamo comprato scegliere il linguaggio purtroppo c'è solamente cinese e inglese scegliamo di nuovo inglese e quindi un menu semplice che però ci permette di dare tutte le impostazioni necessarie per poterlo utilizzare ora proviamo a fare la saldatura di due cavi una cosa molto rapida e semplice solo per vederlo al lavoro saldiamo quindi questi due piccoli cavi fra di loro intanto alla fine quello che ci interessa è vedere come scioglie lo stagno e per fare questa saldatura dato che io non sono bravo in questo caso l'intreccio semplicemente in questo modo lo accendo tra l'altro per fare questa saldatura utilizzerò uno stagno molto economico che ho trovato in dotazione con un saldatore della lidl e tra l'altro di sezione grossa rispetto al tipo di saldatura che devo fare quindi abbiamo 450 gradi impostati il tempo di prendere lo stagno avvicinarsi al punto da saldare già abbiamo raggiunto praticamente quasi la temperatura massima e sto utilizzando utilizzando un alimentatore da 12 volt con un alimentatore più grosso ovviamente oppure con un power delivery saremmo ancora più veloci allora scegliamo un poco di stagno saldatura realizzata senza nessun problema per quanto riguarda la facilità di esecuzione per quanto riguarda il risultato finale ovviamente non mi smentisco non sono mai stato un bravissimo saldatore ma quello che mi interessa è riuscire a unire perfettamente due cavi fra di loro perfetto quindi saldatore che è saldato bene quando lo poggiamo sulla superficie la punta non toccherà mai la stessa superficie quindi siamo al sicuro riesce a saldare tranquillamente a sciogliere lo stagno senza nessun problema perché raggiunge 450 gradi in un attimo io vi ho fatto vedere l'alimentazione con i 12 volte però anche in questo modo raggiunge molto velocemente la temperatura e lo stagno si scioglie molto molto velocemente guardate va bene spero che questo video vi sia piaciuto se vi serve un saldatore di questo tipo da un'occhiata al link spero di associarli anche ad un codice di sconto non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo invitarvi ad iscrivervi al canale mettere mi piace cliccare sulla campanella e ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto grazie